Cioè che può bastare e fischi alla fine della gara, penso che fossero convinti di conquistare un risultato positivo, almeno un pari, di questo sono certo. E' mancato però un pizzico di fortuna nei momenti crociati. E' così qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Si vedeva dall'inizio che la sofferenza maggiore era proprio sugli attacchi centrali. Non sono stati mai capaci di chiudere in maniera efficace in quella zona del campo e alla fine hanno perso la partita. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Sono io che ringrazio te Fabio. Grazie a tutti. Grazie.